Una fra le specie fungine più ricercate in assoluto nel territorio della nostra penisola è sicuramente la mazza da tamburo o macrolepiota procera, un fungo saprotrofo che fruttifica nelle aree prative, nelle aree boschive, dove ci sia materiale organico di residuo vegetale da decomporre. Spesso e volentieri le fruttificazioni di questa specie avvengono anche in lunghe file, semicerchi o anche in piccoli gruppetti più o meno rappresentativi. Si tratta di una specie che al di là della tradizionalità di ricerca raccolta nel nostro territorio è abbastanza semplice da riconoscere se noi la osserviamo in tutti i suoi caratteri peculiari. Ed ancora di più si tratta di un fungo che fruttifica dopo abbondanti precipitazioni sia nel tarda primavera sia in estate sia durante l'autunno e il tardautunno ovviamente sempre in seguito a buone condizioni di precipitazione sia in areali prativi come questo esempio sia in areali boschivi. Ci avviciniamo e vediamo anche il perché del suo nome popolare e tradizionale mazza da tamburo perché quando si presenta in esemplari giovani il suo aspetto ricorda quello del battente di un tamburo con il cappello che si presenta chiuso e racchiuso e all'inserzione con lo stipite ornato da questo meraviglioso anello che scopriremo poi essere doppio e mobile su uno stipite che dettaglio molto importante per riconoscere correttamente la specie macrolepiota procera si presenta decorato da queste squamature di colore nocciola quindi stipite decorato che può raggiungere anche un'altezza di 20 30 40 centimetri è uno dei primi caratteri da osservare per avere la certezza che ci troviamo di fronte a macrolepiota procera questo perché con il nome popolare mazza da tamburo in verità sono indicate tante specie dall'aspetto simile ma che non tutte corrispondono all'entità che vi stiamo presentando procera deliva dal latino procerus che significa alto difatti come detto questo fungo può raggiungere anche 40 centimetri di altezza nella lunghezza dello stipite e nelle dimensioni del cappello quando si apre completamente possiamo arrivare anche a superare i 30 centimetri di diametro detto della sua popolarità veniamo a vederne un pochino altri aspetti intanto mentre scopriamo anche un giovane esemplare che fruttifica al di sotto dello strato di erba di questo prato osserviamone i dettagli alla base dello stipite solitamente c'è un rigonfiamento che ricorda un bulbo più o meno pronunciato quindi una base tendenzialmente bulbosa da quale di parte questo lungo stipite decorato da queste squamature disposte come se fossero delle zebrature di colore nocciola bruno nocciola nella zona più squamata e biancastra nelle zone e negli strati che si alternano questa squamatura ha un aspetto che ricorda un pochino una lanosità osservando il cappello come abbiamo visto il giovane esemplare si presenta racchiuso e con una squamatura piuttosto uniforme su colorazioni bruno nocciola con queste squame disposte concentricamente quindi in maniera circolare regolare intorno al cappello sempre squamature che hanno un aspetto abbastanza villoso e nella parte centrale del cappello è presente un buone arrotondato più o meno pronunciato che permarrà anche negli esemplari adulti quando il nostro cappello si aprirà ovviamente queste squamature tenderanno a migrare verso il margine esterno del cappello lasciando intravedere la parte sottostante della carne che è di colore biancastro quindi dal nostro battente di tamburo in pochissimo tempo anche solitamente nell'arco di una giornata si passa alla vera e propria macro lepiota però c'era il nostro ombrellone aperto e come vedete quella squamatura prima tutta fitta e racchiusa inizia ad aprirsi e a distribuirsi uniformemente generalmente in maniera più spessa ed evidente nella parte centrale del cappello in maniera sempre più allargata verso il margine lasciando intravedere il colore della carne sottostante biancastra sempre presente nella parte centrale un umbone che non risulta però mai troppo pronunciato o con la forma magari di capezzolo proseguiamo nell'osservarne i dettagli raccogliendo questo esemplare intanto abbiamo visto la lunghezza dello stipite continuiamo ad apprezzarla con questa base bulbosa evidente risalendo lo stipite incrociamo nella parte mediana superiore l'anello che come vedete ha una struttura molto particolare è a due facce quindi una parte guarda verso l'alto e una parte guarda verso il basso e questo anello è definito doppio doppio e nella parte inferiore si presenta con delle tonalità brunastro marroncine inoltre è definito mobile perché se noi con attenzione negli esemplari proviamo a spostarlo lentamente sulla superficie del gambo questo può tendenzialmente scorrere quindi da qui noi potenzialmente lo possiamo far scorrere qualche centimetro nella parte superiore lo stipite liscio come vedete sono prive le decorazioni si tratta di un fungo dalla sporata di colore bianco è caratterizzato da una superficie meniale formata da lamelle che sono molto fitte come vediamo e intervallate da numerosissime lamellule l'inserzione dell'imenoforo quindi delle lamelle rispetto al gambo come notiamo è assente in pratica si tratta di un fungo che ha le lamelle che si definiscono libere osserviamo ancora altri dettagli tenendo presente che l'odore di questa specie quando è fresca è un odore gradevole di nocciola tostata se noi grattiamo la base dello stipite o comunque lo stipite si può generalmente osservare o un mancato arrossamento o al più una debole sfumatura di colore leggermente rosato ma non un vero e proprio viraggio su tonalità aranciate ricordiamo che questo è sempre uno stipite decorato e non liscio quindi ci può essere un debole arrosamento quindi un debole viraggio verso tonalità rosa della carne carne che all'interno dello stipite è di colore biancastro immutabile il gambo è cavo fibroso e anche quando ci rapportiamo al consumo solitamente lo stipite viene detto di separarlo rispetto alla superficie del cappello perché abbiamo visto il dettaglio del gambo e il dettaglio della carne oltre alle dimensioni alle squamature e a osservare l'umbone nella parte centrale del cappello per identificare correttamente macro le piota però c'era la più comune diffusa mazza da tamburo sul territorio della nostra penisola occorre anche verificare che lo stipite sia completamente decorato da queste decorazioni da queste squamature la carne che alla scalfittura o al taglio non presenta netti viraggi su tonalità arrossanti o che diventino arancione intensamente viceversa potremmo trovarci di fronte ad una delle altre specie del genere macro le piota in caso di stipite liscio come macro le piota mastoidea come macro le piota escoriata piuttosto che trovarci di fronte a un fungo del genere clorofillum clorofillum racodes ex macro le piota racodes la cui carne arrossa al taglio e che è considerata specie tossica anche se consumata dopo cottura la nostra mazza da tamburo può essere consumata dopo cottura ed è adatta diversi usi a diverse preparazioni solitamente il capello viene utilizzato per cuocerlo interamente in padella o addirittura per delle fritture mentre lo stipite che è fibroso quindi nel consumo da fresco non dà il meglio di sé può essere essiccato ridotto in polvere utilizzato per aromatizzare diverse pietanze l'anello doppio e mobile ha invece un sapore molto dolce zuccherino e può essere anche nel sottobosco assaggiato crudo ricordiamo che va comunque consumata dopo una cottura perché consumata poco cotta potrebbe risultare per alcune persone sensibili debolmente indigesta